Di accoreri per sempre, in ogni cielo e in ogni mente, di accoreri per sempre, nel nostro cuore eternamente. Il nostro cuore eternamente. Ciao a tutti ragazzi, bentornati dal vostro Gobbo Toscano. Oggi andiamo ad analizzare un dato molto importante, perché siamo nei giorni della Champions League, abbiamo visto una Juventus dominare un PSV, abbiamo visto un Inter a testa alta, come raccontano tutti, tener testa in casa del Manchester City. Io ho visto più che altro, riguardandomi la partita, nella nottata di ieri, una squadra che ha fatto un buon primo tempo e poi diciamo che il secondo è stata palleggiata tutto il tempo. Ma questi sono dettagli, sarò io troppo fazioso. Chi lo sa, ma chi può giudicarmi se non realmente qualche esperto di calcio? Non certo qualcuno che va a raccontare cose in giro. Detto questo, parliamo anche di un Milan ovviamente distrutto, distrutto mentalmente, psicologicamente, fisicamente. Abbiamo visto un Milan che non riesce a tenere testa mai ad un Liverpool normale, perché questo Liverpool non è il grande Liverpool. E allora, andiamo a leggere quest'articolo riportato da Calcio e Finanza che è molto 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 importante. Champions League, 25 miliardi di ricavi ai club dal 2001, Real Madrid in testa, Juve in top 5. I Blancos hanno incassato quasi 60 milioni in media in ciascuna edizione di Champions League. I bianconeri primi tra i club italiani, e qui bisogna ricordarlo, da 37 a oltre 130 milioni di euro nel giro di poco più di 20 anni. Questa è l'evoluzione dei ricavi che hanno incassato le squadre vincitrici della Champions League nel confronto tra il 2001 e il 2023. Nei dati ufficiali della UEFA, infatti, si va indietro fino alla stagione in cui ad alzare la Coppa era stato il Real Madrid nella storica finale contro il Bayern Leverkusen del gol al volo di Zinedine Zidane. Nella scorsa edizione sono stati sempre i Blancos a conquistare il trofeo, ma con cifre decisamente diverse a livello economico. Nel 2001-2002, infatti, complessivamente, la UEFA ha distribuito ai 32 club 519 milioni, scesi fino a 407 nella stagione 2003-2004, il minimo nel periodo analizzato. A poco a poco, però, la cifra ha ripreso a crescere, arrivando fino ai quasi 2 miliardi di euro versati nelle casse delle società nella passata edizione, numeri che saliranno ulteriormente con la rivoluzione appena cominciata, che vede la scomparsa della fase a gironi ormai diventata classica e la nascita della prima fase con classifica unica e 8 avversari diversi per ciascuna squadra. Ricavi Champions le stime per quest'anno. Un nuovo format che incide anche a livello economico, il nuovo sistema anche per Europa e Conference League porterà ad un aumento di entrate per la Federcalcio continentale di quasi un miliardo, passando dai 3 miliardi e mezzo del 23-24 ai 4,4 miliardi del 24-25, di cui il 75% pari a 3,3 miliardi finiranno nelle casse delle 108 squadre e parteciperanno alle coppe. Una percentuale in calo rispetto allo scorso triennio quando la UEFA distribuiva il 78% delle entrate ai club. In particolare per i club che parteciperanno alla Champions League ci saranno in palio 2,4 miliardi rispetto ai 565 milioni per l'Europa League e 285 per la Conference. Un divario rilevante seppur in termini percentuali rimasto uguali rispetto al precedente triennio. a favore dell'ex Coppa dei Campioni che distribuirà in particolare 670 milioni in parti uguali alle 36 partecipanti, 914 milioni come bonus per i risultati e 853 milioni legati al ranking decennale e ai diritti TV. Tornando invece all'analisi dal 2001 al 2023-24, complessivamente la UEFA ha pagato premi per la partecipazione alla Champions League per 24,7 miliardi di euro, con una media di poco più di un miliardo ad edizione. Si va dagli 1,35 miliardi incassati da Real Madrid in testa in termini di ricavi per i singoli club fino ai 4,8 milioni dell'Art Media Bratislava, rivale dell'Inter nella fase a Gironi nell'edizione 2005-2006, l'unica in questo periodo in cui gli Slovacchi hanno giocato l'ex Coppa Campioni. In totale sono 129 le squadre che hanno disputato almeno un'edizione di Champions League dal 2001-2002 con dominio in termini economici ovviamente per le big. Andiamo a vedere questa classifica dei ricavi Champions dal 2001 al 2023. Abbiamo Real Madrid in testa 1,346 milioni, Bayern Monaco seconda 1,264 milioni, terzo il Barcellona 1,160 milioni, quarta la Juventus a 1,22 milioni e quinto il Manchester City a 994 milioni. Se andiamo a vedere i top 20, la Juventus è quarta, poi abbiamo l'Inter dodicesima, quindicesimo il Milan, diciottesimo il Napoli e diciannovesima la Roma. Però se guardiamo dalla Roma, che è a 429 milioni, alla Juventus a 1,22 milioni, è più del doppio. E addirittura tra la Juventus e la seconda delle italiane, ovvero l'Inter, c'è un divario di circa 400 milioni di euro. 1,22 miliardo per la Juve e 642 milioni per l'Inter. Ecco, qui facciamo un attimo un'analisi però. Quando parlavamo di Supercoppa, di Supercoppa, scusate, di Superlega, mi scappò Supercoppa, parlavamo di Superlega, si parla ancora di Superlega, fondamentalmente Ceferin, Infantino, hanno voluto stoppare il tutto, ma ci si ritrova a fare una sorta di Superlega in Champions League, ovvero una Super Champions League, perché sono aumentati i ricavi per tutti i club e per tenere la loro leadership cosa stanno facendo i responsabili e i dirigenti di queste associazioni, di queste competizioni? Stanno dando più soldi a tutti. Fortunatamente è una cosa importante, una cosa molto importante, ma è uno specchietto per le allodole, perché nonostante siano aumentati i soldi divisi dai vari club, c'è una cosa che è in discesa, il 75% dei ricavi vengono dati ai club, invece nella scorsa stagione la UEFA distribuiva il 78% delle entrate ai club, quindi hanno aumentato tutto, però poi ti danno per meno percentuale, che vuol dire come quando voi andate in un negozio di scarpe, andate a comprare, andate a vedere un paio di scarpe, ce n'è tanti, io soprattutto mi ricordo in Toscana, nei paesini dove vivevo io, c'erano quelle botteghine, quei negozini avevano tipo 15 paia di scarpe della Nike, e poi andavi, che ne so, allo store della Nike e trovavi la stessa scarpa allo store della Nike a 100 euro, e di là nel negozino trovavi 169 euro, ma ti facciamo uno sconto di 50 euro, e quindi diventava 119, e tu dicevi, madonna, ma di uomo fanno uno sconto bestiale, il problema è che le pagavi comunque 19 euro in più, cioè, alla fine, alla fine della fiera, cercano di metterti tutti quei guadagni, sembra che guadagni di più, miliardi su miliardi su miliardi, e invece, e poi, non è così, no? Non è assolutamente così. Ecco però, questo è un discorso importante, ma è importante ribadire quanto la Juventus abbia contribuito a questa competizione, perché, se andiamo a vedere in termini di ricavi, la Juventus è la quinta nel ranking totale degli ultimi 20 anni, gli ultimi 22 anni, la Juventus con un miliardo in 22 anni ha fatto una media di 40 e rotti milioni all'anno di partecipazione alla Champions League contro un Inter che non arriva manco a 30. quindi c'è tanti a raccontare sì l'Inter di qua, l'Inter di là, ma ragazzi, guardiamo i ricavi delle italiane, Juve un miliardo e 22 milioni, Inter 642 milioni, Milan 518, Napoli 431, Roma 429, poi scendiamo, Lazio 154, Atalanta 140, Fiorentina 39, addirittura Udinese a 9,3 milioni di euro, questo è vero perché fondamentalmente avrà partecipato a un'edizione sola, l'Udinese mi pare in questi anni, ma comunque guardando alle singole stagioni l'edizione 2022-23 è stata la migliore per l'Italia in termini economici, la finale raggiunta dall'Inter, la Juventus che non ha partecipato, insieme alla semifinale del Milan e ai quarti per il Napoli hanno portato agli incassi dei club italiani a quota 321 milioni di euro aggregati, superando il precedente primato di 259 milioni fatto segnare nel 19-20 nella Champions 23-24 invece le 4 italiane si erano fermate a 244 milioni cifra curiosamente pari alla base di partenza dei ricavi dei nostri club nel 24-25 240 milioni circa complice però soprattutto l'aumento delle squadre da 4 a 5 in totale così sono state 9 le squadre italiane che nel periodo analizzato hanno partecipato alla Champions League ovviamente secondo me qua c'è da fare un discorso ripeto importante che aumentano i ricavi aumenta tutto ma fondamentalmente la sostanza è sempre la stessa ripeto se poi metti milioni in più ma dai un 3% in meno del totale da dividere sui club e i club sono di più rispetto agli scorsi anni viene da sé che alla fine ti rimane in tasca la medesima cifra ma poi faremo i conti a fine stagione a fine Champions League e diremo se Gobo Toscano aveva detto la verità oppure aveva semplicemente sparato in aria un petardo ma io non credo proprio perché i conti ancora sono bravo a farli detto questo ragazzi complimenti sempre alla Juventus dovete fare sempre complimenti alla Juventus perché se siamo lassù se siamo lassù è grazie anche alla Juventus soprattutto alla Juventus che nel ventennio ha fatto registrare i ricavi maggiori per tutte le italiane è quasi al pari anzi senza probabilmente senza quasi se mettiamo insieme ecco l'Inter e il Napoli si fanno i ricavi della Juventus in Champions League perché se mettevo l'Inter e il Milan si superava di 100 milioni ma se metto insieme l'Inter e il Napoli o l'Inter e la Roma o Napoli Roma e Lazio si fanno i ricavi della Juventus quindi ragazzi le chiacchiere stanno a zero io capisco c'è l'odio sportivamente parlando la rivalità ma su via diciamo le osi che stanno fatemi sapere la vostra mi raccomando secondo me è un video molto interessante per capire anche quello che porterà a questo nuovo format della Champions League mi raccomando iscrizione al canale like condivisione commento attivazione della campanella stasera tutti i live 21.30 come domani sera stasera Luca Castiglia domani Marcello Chirico non mancate sono già aperte tutte e due le live andate a mettere un like condividetele subito e state pronti perché 21.30 e non più 22.30 quindi si va indietro di un'ora non perché si cambia l'orario l'ora legale ma semplicemente perché il Gobbo Toscano fa la live un'ora prima mi raccomando fino alla fine Forza Juve fino alla fine Gobbo Toscano perché il Gobbo Toscano siete tutti voi ciao ragazzi